Da Motostore ti attende il tuo SH125-150-350, minimo anticipo e rate mensili senza interessi. Motostore, dove si lavora con il sorriso. Gli stessi operatori hanno chiesto di valutare le ipotesi di poter essere collocati in un'altra area. Abbiamo verificato con gli uffici la possibilità di collocarli nel controviale salendo sul lato sinistro, ma tenendo presenti che ci sono delle particolarità che non possono essere trascurate. La prima della quale è che c'è la farmacia al primo incrocio e quindi la prima sezione tra il Viale Ricina Elena e la farmacia va assolutamente tenuta indenne da qualsiasi collocazione di banchi perché è un presidio sanitario e deve essere facilmente raggiungibile da chiunque in qualsiasi momento del giorno. Quindi si tratterebbe di collocarli a partire da quell'incrocio in su fino al Viale Aranci, ma la strada ha una larghezza tale per la quale stiamo verificando quanti operatori riescono a essere collocati. Dopodiché si procederà eventualmente se questa soluzione è percorribile con il parere degli uffici che sono stati chiamati a esprimersi anche la viabilità e la polizia municipale procederemo poi eventualmente alle assegnazioni di posteggi. La collocazione che era ben vista comunque degli operatori, possiamo dire che è stato un esperimento legato comunque alla necessità di dare l'area del Mandalari all'ASP, ecco non ha funzionato, non si potevano adottare dei correttivi perché molti operatori, anche da noi intervistati, sottolineavano che quella per loro era una posizione forse la migliore. La ringrazio per questa domanda perché mi consente di chiarire una serie di cose. La prima è che lo spostamento del mercato sull'area centrale del Viale Giostra è stato motivato appunto dalla richiesta da parte dell'ASP di avere l'area ex Mandalari e quindi dalla necessità di sgombrare quanto prima possibile quell'area perché se uno seguire i tamponi alla cittadinanza era necessario un'area grande come quella. E quindi si è trovata una collocazione temporanea dettata da ragioni di sanità pubblica. Le ragioni per le quali poi questi operatori non hanno potuto usufruire quest'area a livello stabile sono molteplici. Innanzitutto il Viale Giostra è uno svincolo autostradale quindi è un'arteria di grande percorrenza. La sezione centrale deve essere interessata anche lei da dei lavori e quindi anche lì sarà necessario fare degli interventi e poi c'è una commistione fra attività commerciali e l'altro mercato, quello del Sant'Orsola per la quale si è verificata una congestione molto spesso anche del flusso veicolare con intralci e la circolazione, insomma una situazione di disordine che non ci ha consentito di poter continuare questa collocazione in questo modo, cioè in via straordinaria e per motivi sanitari. Quindi c'è stata l'emergenza sanitaria, necessariamente il mercato doveva rientrare nell'area del Mandalari. Ovviamente le valutazioni sulla sua nuova collocazione sono state oggetto anche di un confronto con gli operatori dicendo che in fase di redazione del piano del commercio l'amministrazione si impegna a reperire una nuova area anche per loro ma non può essere reperita in tempi così rapidi quindi una soluzione temporanea come quella che stiamo valutando è il frutto sempre della disponibilità da parte di questa amministrazione nei confronti di questa categoria verso la quale ritengo che sia stata dimostrata non dico attenzione perché non è la parola corretta ma comunque la giusta predisposizione anche a tener conto delle loro necessità.